Non siete soli, chiamateci sempre, è l'hashtag della Polizia di Stato contro le truffe agli anziani. L'iniziativa è stata lanciata tramite questo video pubblicato sulle pagine ufficiali Twitter e Facebook della Polizia di Stato e dell'agente Lisa. Il progetto ha quest'anno un testimonial d'eccezione, Gianni Politi, che con la collaborazione degli attori Fabiana Latini e Giovanni Platania lancia un semplice ma incisivo messaggio agli anziani, diffidate dagli estranei e chiamate la Polizia. Sono purtroppo tanti i casi di anziani che soprattutto nel periodo estivo vengono avvicinati e raggirati. Il fenomeno infatti ha avuto un sensibile aumento negli ultimi tre anni con una casistica infinita. Tra le truffe più ricorrenti ci sono quelle in abitazione che iniziano sempre con una scusa per entrare in casa, controllo del gas, lettura della luce, consegna di un pacco o addirittura finti appartenenti alle forze dell'ordine. In strada gli anziani vengono avvicinati in prossimità delle banche o degli uffici postali dopo avere ritirato denaro oppure vicino casa da sconosciuti che si fingono conoscenti di vecchia data, i quali con modi gentili si fanno invitare a casa per svuotarla dei preziosi. Una terza tipologia è la telefonata di un falso parente o di un falso amico di un familiare che richiede soldi preannunciando l'arrivo di un incaricato per il ritiro. In tutti questi casi, come dice Gianni Politi, Non siete soli, chiamateci sempre. Cristina Iannuzzi per l'AC News 24